a me tocca l'ingrato compito di chiudere tra Simone Facchinetti e Kit Christensen mi sento un po' schiacciato e allora anche io mi associo veramente ai ringraziamenti ad Anna Maria Ambrosini Massari ad Andrea Bacchia a Tommaso Montanari per questo gradito invito e inizio che i nomi di Michelangelo Merisi e Roberto Lunghi siano oggi accostati non dovrebbe certo stupire sappiamo quanto gli studi di Lunghi abbiano segnato la riscoperta e la fortuna novecentesca dell'artista Lombardo in una parabola lunga quanto tutto l'arco della sua carriera assieme alle ricerche di Herman Foss in Germania e di Lionello Venturi in Italia Lunghi occupa certamente un posto centrale nel processo di costruzione della moderna immagine dell'artista a muovermi verso la preparazione di questo intervento sono state alcune domande che ridotte all'osso al nucleo ruotano attorno ai diversi ruoli che Caravaggio ha assunto nel sistema di valori di Roberto Lunghi e a dire delle diverse immagini dell'artista che negli anni lo studioso ha costruito e messo a punto agendo in primis verso le sue stesse idee come sottolineava Giovanni Previtali nelle pagine introduttive alla riedizione del Caravaggio di Lunghi l'edizione che mette assieme l'edizione del 52 e quella del 68 uno dei problemi nodali nel comprendere il percorso compiuto dallo studioso riguardo all'artista ruota attorno al tema del realismo tema che è stato ampiamente evocato quest'oggi un tema che si articola cambia di segno si riaffaccia come un continuo rovello critico-esegetico è di fatto una sorta di cantiere continuo il Caravaggio di Lunghi un cantiere nel quale le singole scoperte siano esse nuove attribuzioni o ritrovamenti documentari aggiungono nuovi percorsi su di una mappa mai chiusa mai definitivamente sigillata nell'insieme e da questo il tema su cui mi concentrerò quello che cambia è anche l'interpretazione generale che lo studioso offre dell'artista se è sempre stato chiaro a lunghi il legame tra Merisi e la pittura francese ad esempio le vie attraverso cui questo legame si sarebbe di volta in volta costruito non sarebbero state lineari né spianate una volta per tutte sottolineo dati ed elementi forse ovvi ma credo che provare ad articolarli possa offrire alcune indicazioni di metodo utili non solo per cogliere in che modo si costruisce l'immagine del pittore nel corso del tempo cioè come muta nel corso del tempo ma anche per circoscrivere la sostanziale non linearità dei percorsi della critica fatti come sono di continue oscillazioni di tentativi di avanzamento che spesso fronteggiano forzate battute dal resto di ritorni su se stessi e ripensamenti facciamo allora un passo indietro negli anni dieci ed è già stata evocata cade la più antica uscita pubblica per così dire esclusa la tesi di laurea che però non viene pubblicata la prima uscita la più antica uscita pubblica di Longhi riguardo a Caravaggio è l'articolo che compare nel terzo fascicolo dell'arte del 1913 quello appunto dedicato a due opere di Caravaggio sarà come ha già ricordato Simone uno scivolone attributivo un infantile errore come lo avrebbe definito Longhi nella conferenza londinese del 39 e che nonostante tutto sarebbe però stato incluso nella raccolta delle opere complete nel primo volume pubblicato nel 61 lì in questo saggio del 1913 si incontrano alcune delle direttrici che avrebbero costituito una delle cifre interpretative messe in atto da Longhi nei propri anni giovanili Caravaggio è un pittore ancora luminista che dà vita a uno stile nuovo grazie alla capacità di ridurre tutto il mondo alla dipendenza stilistica della luce come scrive Longhi nelle prime battute del fiammeggiante saggio di critica figurativa pura dedicato a Mattia Preti del 1913 e da cui ho citato in quelle pagine Caravaggio è definito come uno stilista ovviamente non nel senso odierno dell'Emma ma stilista quindi un artista cioè che dà vita a uno stile ma si noti non è un naturalista l'aggettivo che fin dai contemporanei come appunto abbiamo visto questa mattina fin dai contemporanei dell'artista gli era stato avvicinato Longhi in questi anni fa di tutto per evitarlo negli anni 1912-1914 i suoi strali scoccavano velenosi contro ogni forma di arte mimetica di matrice fiamminga c'era la forte condanna verso il realismo lenticolare dell'arte nordica l'arte di Jan van Eyck quella e cito arte di mera classificazione l'erbario della vita l'arte positivistica la collezione dei particolari l'enciclopedia visiva il massimo punto cui una mente scientifica creda possibile di giungere un album di realtà dove tutto si vede dove nulla è escluso perché tutto rientra negli intenti del pittore che è quello scimmiesco di fare il gesto alla vita questo è un saggio un'interiezione di follia giovanile l'ha definito Garboli forse aveva ragione è il saggio che Longhi non lo ha pubblicato in vita è Caine Malerai arte boreale del 1914 ma si trattava di un problema di matrice geografico-culturale più che cronologico che quindi travalicava i limiti dell'arte quattrocentesca così nel 600 qualcosa di simile accade con la pittura di Ribera e cito di nuovo dalle pagine del Mattia Predi se qualcuno vuol seguitare ad esaltarlo cioè ad esaltare Ribera come uno dei grandi artisti del 600 italiano s'accomodi noi siamo lieti che al nostro 600 non appartenga e siamo certi che egli non è propriamente un artista egli ha piuttosto il solito fiammingo che piomba fra di noi gonfio e altero del suo realismo microscopico e necrofilo capace solo a corrompere nonché ad acquistarne una briciola il senso vero dello stile dell'arte le grandi fondazioni caravaggesche venivano sdimenticate e deformate dalla grettezza realistica del Ribera cui seguivano i meno dotati se dunque di realismo bisognava parlare per la pittura di Caravaggio sarebbe stato necessario distinguere il suo senso vero dello stile dell'arte dalla mera riproposizione di dati di realtà entro la cornice di un dipinto e questa è chiaro non era operazione da poco bisognava trovare il modo di ricollocare Caravaggio all'interno di un nuovo sistema di valori cioè cambiare il sistema di valori e fare spazio alla novità di Caravaggio sulla creazione dei sistemi valoriali longhiani Ezio Raimundi ha scritto pagine molto molto intelligenti operazione questa che di lì a due anni Longhi avrebbe condotto in porto del resto per un altro artista ma di due secoli anteriore e cioè Piero della Francesca ora nel caso del pittore Lombardo il quadro critico era complicato non poco dal fatto che sulla sua pittura pesava tutta quanta la tradizione della storiografia artistica seicentesca che gli aveva affibbiato l'etichetta di imitatore della natura e l'intervento di questa natura Stefano Pierguini ha mostrato anche le varie traversie di questo problema torniamo per un momento alle pagine dedicate a Mattia Preti poiché offrono il miglior punto d'osservazione per cogliere anche il trapasso di idee che si compie tra due fronti dell'impegno critico longhiano quello rivolto alla pittura antica e quello rivolto alla propria contemporaneità non mi è possibile offrire la giusta e doviziosa serie di dettagli che sarebbe necessaria ma è centrale ricordare quanto in termini di idee, di lessico, di categorie interpretative il saggio su Preti si imparenti e sia legato a ciò che Longhi andava facendo riguardo alla pittura futurista il saggio sui pittori futuristi pubblicato sul numero della Voce del 10 aprile 1913 e quello su Mattia Preti uscito nel numero di ottobre della rivista ma consegnato ad agosto di quell'anno nascono sostanzialmente insieme ed entrambi lievitano sul sostrato formalista che Longhi va consolidando proprio in quel momento quindi tra la fine del 12 e gli inizi del 1913 il formalismo alla Berenson per capirsi ma anche la scoperta della pura visibilità di Hildebrand de Montmartre e in generale dell'impianto puro visibilista formalista dell'area germanofona e a partire da questi strumenti da questo tipo di formalismo che Longhi, come ha mostrato Simone Facchini, avvicina anche le opere seicentesche una strumentazione critica che però lo tradirà su più di un fronte è un problema che a questa altezza cronologica Longhi condivide anche con altri studiosi su tutti l'altro protagonista della riscoperta di Caravaggio nella prima metà del Novecento Lionello Venturi colleghi e quasi sodali per un tratto della loro attività giovanile i due si erano effettivamente conosciuti nell'estate del 1912 Venturi e Longhi sono uniti dagli interessi per il pittore Lombardo perlomeno dal principio degli anni Dieci nel 1909 Venturi pubblicava sulla rivista del padre Adolfo un lungo articolo che ruotava attorno ad alcune opere della Galleria Borghese e riconsiderava anche alcuni dipinti di Caravaggio e in questo articolo le note sulla Galleria Borghese è un po' l'antefatto è una sorta di antefatto del più impegnativo saggio pubblicato l'anno successivo gli studi su Michelangelo da Caravaggio anche esso uscito sull'arte per entrambi i giovani studiosi quindi sia per i giovani Longhi che per i giovani Venturi Caravaggio costituisce un vero e proprio terreno di scoperta una novità con la quale ancora si stanno misurando metodi e risorse e qui ecco che ci troviamo davanti a un punto nodale in quegli anni il metodo morelliano declinato anche almeno per Longhi nelle sue varianti berensoniane è ancora la bussola che guida il percorso attributivo ma credo inoltre che si debba sottolineare come in questo momento qui in 1913-1914 il Caravaggio di Londi si nutra tanto del formalismo quanto del confronto seppure implicito con la pittura del 400 italiano io non ho risultati sistematici da proporvi però come dire il confronto fra gli scritti quattrocenteschi e i primi scritti di argomento seicentesco dimostra proprio questo continuo fluire sui due versanti Caravaggio è ancora il pittore dello stile luministico che chiude la seconda parte della breve ma veridica storia della pittura italiana siamo nell'estate del 1914 Caravaggio, scrive Longhi porta a valore stilistico i tentativi di una schiera di pittori provinciali non si tratta più di piani prospettici ma di piani di luce attuati in corpi che vivono in materia pittorica accordata in tonalità basse quasi verso il bianco e nero quale senso di monumentalità nuova e possente mani dalle opere di Caravaggio e quale sfrondamento d'ambiente e di particolari egli compia per lasciare alla luce tutte le sue possibilità struttive sulla suppellettile rude e scabra dei tavoli rozzi e semplici dei folianti sodi dei teschi sboccianti in luce come le contrapposte calvizie degli eremiti tanto superiori per questa semplificazione stilistica a quelli del Ribera che pur riprendendosi a Caravaggio trasforma l'effetto monumentale di luce su forme sane e sode in truculenza di giochi d'ombre su carni macilente e realisticamente rugose siamo ancora nell'ambito di quelle categorie che Longhi aveva messo in campo per caratterizzare la pittura quattrocentesca la sintesi prospettica di forma colore che si era rivelata pregnante e operativa per leggere l'arte di Piero della Francesca ma e Longhi se ne accorgerà molto presto con Caravaggio questo armamentario critico si spunta quasi immediatamente per non parlare poi di quegli artisti che di Caravaggio imitano lo stile che risentono della sua rivoluzione e come appunto ricordava nel suo intervento Simone Facchinetti è il maggiore impegno di Longhi nel corso degli anni dieci e per il principio degli anni venti un paziente esercizio della distinzione cioè arrivare a distinguere il maestro dagli allievi si apre così la parata di saggi memorabili che fa chiarezza e mette a punto un quadro interpretativo di alcune zone cruciali del Seicento italiano soprattutto ma non solo Orazio Borgiani nel Quattordici Battistello nel 1915 Orazio e Artemisia Gentileschi nel 1916 nell'anno successivo il già ricordato saggio non pubblicato in vita eppure cruciale perché risolve un nodo quello del rapporto tra Venezia e Roma nella figura di Carlo Saraceni del 1917 ancora pochi anni nemmeno un lustro e in Longhi la necessità di una revisione metodologica si fa urgente tanto da essere fissata sulla pagina è lo stesso passo che ricordava anche Simone Facchinetti scrive Longhi sarebbe tempo di dire che la forza e l'efficacia del metodo morelliano o meglio di quel tanto di vitale che si cela dietro la reale insufficienza teoretica del metodo morelliano si arresta col 500 non è qui luogo a discutere ampiamente quali siano o abbiano essere le basi della critica figurativa per il 600 e soprattutto per il cosiddetto naturalismo seicentesco dico italiano come spagnolo o nordico sta il fatto che qui il giudizio non verte più sulla linea o sulla sintesi prospettica di forma e di colore o sul plastico o sul colorismo di superficie tutti strumenti dietro questi dilemmi ci sono le categorie interpretative che Longhi usa e che ha usato fino a quel momento ma si trova a lottare con gli elementi alquanto più inafferrabili della sostanza cromatica nelle infinite qualità degli impasti l'apparizione nel campo della pittura di questi elementi tanto nuovi da apparire nella denominazione quasi nebulosi servirà forse a far riflettere alle particolari e maggiori difficoltà che quel periodo rispetto presenta rispetto ad altri studiatissimi con tutta verosimiglianza siamo nel 1920 1921 e chiaramente il saggio poi incluso nel volume del 1995 il saggio appunto scusate giunte varianti ai due gentileschi si ricollega al saggio del 1916 ma ormai le basi iniziano a cambiare già qualche anno prima nel 1918 Lunghi si era apertamente dichiarato scettico rispetto alla possibilità di parlare e cito sul serio di plasticità e di volume in Caravaggio e questa citazione proviene dalla recensione all'articolo di Matteo Marangoni dedicato ai valori malnoti e trascurati della pittura italiana del 600 il fatto è che Lunghi si trovava in questa impassa di non riuscire bene ad estreggiarsi rispetto alla pittura alla pittura del 600 e di fatto non era ancora riuscito a risolvere le contraddizioni che lui stesso rilevava e coglieva perfettamente in un'interpretazione di Caravaggio in chiave più formalista o naturalista Lunghi sarebbe giunto a questo obiettivo attraverso un percorso niente affatto lineare un percorso che avrebbe subito una svolta importante a partire dagli anni 20 un decennio chiave come già emergeva dalla relazione di Simone che ha a monte il viaggio europeo si apre con la mostra fiorentina del 22 che anche Anna Maria Ambrosini evocava e si chiude nel 29 con la pubblicazione dei quesiti caravaggeschi da questo decennio il Caravaggio di Longhi esce in parte mutato non tanto e non solo per il numero di opere attribuite quanto per la generale interpretazione che lo studioso offre dell'artista tra il 1920 e il 1921 quindi per due anni Longhi non pubblica neanche una riga studia il viaggio in Europa è l'esperienza che segna il cambio di passo rispetto all'attività critica dello studioso le perlustrazioni attraverso i musei le chiese le collezioni pubbliche e private permettono a Longhi di confrontarsi finalmente con un numero altissimo di opere originali e di formare una mappa della cultura artistica europea che poi negli anni avrebbe sempre più precisato e arricchito proprio da quell'esperienza quindi dall'esperienza del viaggio europeo erano nati alcuni saggi centrali per il passaggio dalla fase giovanile diciamo così vociana a quella successiva di conoscitore e solo per rimanere in ambito seicentesco ricordo il saggio su velasquez il santomaso del velasquez o il meraviglioso saggio terbrughe nella parte nostra entrambi pubblicati sulla rivista vita artistica nel 1927 rientrato in Italia dopo questa cruciale esperienza Longhi muta metodo e stile al silenzio del principio del decennio segue una produzione saggistica quasi strabordante tra il 1925 e il 1927 che conta opere fondamentali e una per tutte la prima edizione del Piero della Francesca e come ho detto alla fine del decennio vede l'uscita dei cruciali quesiti karavageschi si impostava così relativamente al 600 attraverso quegli scritti e le esperienze di studio che li avevano originati un ripensamento profondo delle posizioni che avevano sin liquidato Longhi nell'interpretazione dell'arte del Merisi è in chiusura della seconda parte di questo lungo e complesso saggio che si avverte il cambiamento di passo laddove Longhi sente ormai la necessità di fissare qualche coordinata per disegnare una mappa diversa per interpretare l'arte di Caravaggio anche il Caravaggio scrive Longhi ha sofferto e soffre tuttora di giudizi eterocliti la condanna di mero naturalismo inflittagli dal Baglione e dal Bellori è senza dubbio ingiusta ma dà ragione almeno di una delle due facce dello stile di lui assai più sviate ci paiono le interpretazioni moderne parlare del Caravaggio disegnatore o plastico colorista o barocco è ancora giudicarlo da questa o da quella delle prerogative del classicismo non così parlare del luminismo che è la controparte stilistica della sua ineluttabile naturalezza qui Longhi dismette non solo le interpretazioni avanzate da altri studiosi ma in parte corregge e riassesta quelle stesse opinioni che aveva lui avanzato in gioventù e prosegue lunghi delle esperienze luministiche dei suoi precursori il Caravaggio scopre la forma delle ombre uno stile dove il lume non più ha servito finalmente alla definizione plastica dei corpi su cui incide è anzi arbitro con l'ombra seguace della loro esistenza stessa all'artificio al simbolo drammatico dello stile attendeva ora il lume medesimo ma quando in un battito del lume una cosa assommasse e poiché non era più luogo a preordinarla nella forma nel disegno nel costume e neppure nella realtà del colore essa non poteva sortire che terribilmente naturale il dirompersi delle tenebre rivelava l'accaduto e nient'altro che l'accaduto donde la sua inesorabile naturalezza e la sua inevitabile varietà la sua incapacità di scelta la soluzione del Caravaggio trova infatti nell'accordo deciso e perentorio fra il fisico e il metafisico il segno del proprio valore amaramente vero e perenne e ogni stile autentico contiene in sé la dialettica del dualismo tra natura e visione naturalezza somma e somma astrazione si invertono fra sé la terribile naturalezza del Caravaggio dunque è ormai letta attraverso l'involucro sommamente ideale che le soggiace e che Longhi fa di tutto per slegare dal mero naturalismo inizia un cambiamento di lettura rispetto all'arte di Caravaggio però ancora c'è questo problema del naturalismo analogamente a quanto aveva fatto in altri casi Longhi si sforza anche di recuperare un lessico specifico in particolare quello della storiografia artistica antica conscio della profondità storica e della maggiore aderenza concettuale al fatto visivo che questa scelta gli avrebbe offerto in questo caso però il naturale belloriano è mutato di segno da condanna diventa valore quasi positivo e categoria attraverso cui leggere l'opera di Caravaggio a patto chiaramente di intendersi bene su che cosa volesse dire quell'etichetta su che cosa volesse dire naturalismo è su questa base che si sarebbe compiuto il cambiamento che avrebbe portato lunghi nel quindicennio successivo a recuperare proprio il naturalismo di Caravaggio quando infatti si trovò a pronunciare la propria comunicazione al convegno di storia dell'arte di Londra nel 1939 si sarebbero riaffacciate le novità avanzate alla fine degli anni 20 quel testo arricchito e ampliato nella seconda parte sarebbe poi stato pubblicato nel 43 di fatto occupandolo quasi interamente nel primo fascicolo della rivista proporzioni dallo stesso Longhi fondata e diretta sarebbe impossibile dar conto in breve di quello che può essere considerato uno dei saggi fondativi o rifondativi dei moderni studi caravaggeschi sia sufficiente ricordare che è proprio nelle pagine degli ultimi studi e nell'annessa puntata nel saggio che lo segue gli ultimissimi studi che Longhi fissa i contorni dell'opera del Merisi e di molti dei suoi seguaci da quelle pagine ad esempio si affacciarono le fisionomie di artisti sino allora sfocati ai quali lo studioso restituiva opere e una posizione nella complessa galassia caravaggesca un caso su tutti lo spadarino è lì nel saggio del 43 che affondano le radici di quella che sarà la chiave interpretativa offerta nella grande esposizione milanese che aprì i battenti a Palazzo Reale nell'aprile del 1951 le difficoltà nell'allestire una tale mostra in un momento in cui Milano era ancora segnata dalle traversie della guerra e i bombardamenti che si susseguono a partire dal 24 ottobre del 42 e proseguono poi nel 43 di nuovo nel 44 avevano quasi completamente raso al suolo la città appunto le difficoltà nell'allestire la mostra del 51 non le ripercorrerò e del resto emergono assai bene dal bel libro che Patrizio Aiello ha dedicato all'argomento nel 2019 Caravaggio 1951 e scriveva Longhi nell'introdurre il catalogo della mostra se poi il metro del giudizio mutò dopo la metà del secolo scorso va detto chiaramente che il merito del cambiamento non fu già della critica improprio ma di una nuova pittura che con nuovi fatti analoghi a quegli antichi la sollecitò sebbene poi ancora una volta la società osteggiasse pertinacemente e la nuova pittura e la nuova critica quindi un apprezzamento che parte dagli artisti è lo sguardo degli artisti che rende sensibili gli sguardi dei critici rispetto alla pittura di Caravaggio ben consapevole delle sue stesse posizioni Longhi si accinge a lamentare quelli che sono stati anche miei errori scrive il problema critico sorto nell'ambito filosofico di un idealismo troppo astraente rischiò una prima involuzione perché il caso realistico del Caravaggio o intimoriva il critico oppure veniva sforzato in una interpretazione troppo ideale di riprendere pari pari il vocabolo di naturalista già usato dal Baglione e dal Bellori e soltanto privandolo della sua inclinazione spregiativa non veniva in mente a nessuno il pubblico cerchi dunque questa è però la famosissima citatissima chiusa del saggio introduttivo di Longhi il pubblico cerchi dunque di leggere naturalmente fra virgolette nel catalogo un pittore che ha cercato di essere naturale comprensibile umano più che umanistico in una parola popolare un pittore quindi che senza paure di fraintendimenti diventa naturalistico addirittura diventa popolare non è possibile non leggere questo esito quindi l'esito a cui arriva Longhi nel 1951 senza tenere conto anche del contesto in cui quelle istanze andavano a cadere non entrerò nel complesso quasi tumultuoso dibattito che si ingenerò tra artisti e critici circa i temi del realismo un dibattito che per quanto focalizzato soprattutto sull'arte contemporanea inevitabilmente finiva per stingere anche sui modi in cui si guardava all'arte antica proprio a Milano si era avviato tra gli artisti legati a Brera e ritrovi al caffè della Sciuratitta un ripensamento delle posizioni del movimento di corrente è una situazione di fermento segnata dall'omaggio a Picasso e in particolare a Guernica come esempio dell'opposizione degli artisti al potere nuove esigenze che si coagulano attorno al tema del realismo ma inteso un realismo inteso come impegno politico degli artisti tanto più necessario dopo la seconda guerra mondiale un impegno declinato nel senso della più stretta ortodorsia marxista da ad esempio Mario De Micheli in un articolo del 45 ma già come dire in elaborazione nell'anno precedente nel 44 realismo e poesia un realismo che scrive De Micheli prosperi su una concezione materialistica della storia dell'anno successivo è la pubblicazione di Oltre Guernica il manifesto del realismo redatto e come dire particolare attenzione a questi nomi Ennio Morlotti Emilio Vedova e Giovanni Testori sono loro che materialmente scrivono il manifesto del realismo e sottoscritto da altri sette artisti in arte si legge nel manifesto al punto 3 la realtà non è il reale non è la visibilità ma la cosciente emozione del reale divenuto organismo realismo non vuol dire quindi naturalismo overismo espressionismo ma il reale concretizzato dell'uno quando determina partecipa coincide ed equivale con il reale degli altri individua anche una precisa linea questo manifesto entro la quale collocare l'attività degli artisti basata sull'elaborazione in comune di identiche premesse formali che originano cito di nuovo dal processo che da Cézanne va al fovismo ritrovamento dell'originale del colore e al cubismo ritrovamento dell'origine strutturale quindi la pittura di Cézanne e di Picasso diventa il precedente per rifondare il realismo proprio grazie alla loro capacità di scomporre il dato di realtà e di dar vita in pittura a qualcosa di nuovo a entrare direttamente in polemica con le posizioni di De Micheli non sarebbe stato Longhi ma il suo allievo Francesco Arcangeli in un articolo pubblicato nel 1948 sulla fiera letteraria astrattismo e realismo secondo De Micheli scrive Arcangeli il più grande esemplare di arte realistica è Guernica di Picasso 1937 in un'opera di quel genere le emozioni sogni le evasioni simboli del secolo romantico propaginatosi fino alle ultime correnti espressionistiche surrealistiche e astrattistiche sono rifiutati apertamente ma d'altra parte il realista Picasso non descrive naturalisticamente gli uomini e le cose ma ne dà in chiara e spietata sintesi gli emblemi il mondo visibile non è descritto analiticamente ma concentrato scarnito sintetizzato attraverso la più rigorosa semplificazione formale e coloristica in questa spietata chiarezza stilistica da cui nascerebbe una specie di forza d'urto visiva consisterebbe poi il valore eroico di quella pittura espressiva della nuova realtà comunista una presa di distanza rispetto alla lettura di De Micheli e una presa di distanza rispetto all'artista Picasso che Marcangeli assolutamente non amava come del resto Longhi non amava Picasso le note inedite poi pubblicate su Paragone all'uscita da una mostra dedicata a Picasso dove Longhi vede Picasso le opere di Picasso lo lasciano a dir poco freddino ecco rispetto all'artista in polemica tanto con De Micheli quanto e soprattutto con Renato Gottuso Arcangeli delineava una via che potesse ricomprendere il naturalismo nell'alvio del realismo i cui contorni artisti e critici si sforzavano di tratteggiare è un dibattito che avrebbe avuto lungo corso per tutti gli anni 50 e che come è noto avrebbe coinvolto anche scrittori e intellettuali e Longhi che seguisse le polemiche che coinvolgevano i giovani critici e gli artisti è quasi scontato proprio Paragone a uno dei palcoscenici su cui compaiono gli scritti di Arcangeli ma c'è di più sul fronte della mostra caravaggesca è noto come all'indomani dell'apertura iniziarono a fioccare le recensioni e gli articoli di giornali Longhi ne avrebbe dato conto del resto nel consuntivo caravaggesco pubblicato nel numero di luglio del 51 di Paragone al netto dei singoli punti di scontro o di polemica mi pare assai significativo che da parte di chi muoveva critiche all'esposizione e al suo commissario tecnico al centro stessero proprio le questioni legate a come interpretare il realismo del pittore la polemica che divampò con il critico del mondo Alfredo Mezio lo vide prendere la parola in prima persona proprio sul valore popolare del pittore Longhi continuò a ribadire il valore della rivoluzione del realismo caravaggesco di fronte alle critiche di chi vedeva nel pittore nella generale interpretazione offerta dalla mostra un artista che nel repertorio popolare cito non celebra la pena degli umili bensì la violenza l'energia e la brutalità del popolo da questa umanità laida rugosa sgangherata fangosa piena di stracci e di crepe viene fuori un'esaltazione della violenza che non promette nulla di buono per i difensori del popolo e per gli innamorati della semplicità evangelica questo è un passo di uno degli articoli di Mezio il botta risposta tra Longhi e Mezio si trascinò inoltre tra l'agosto e il settembre attorno a una questione attributiva attorno alla Giuditta Coppi Longhi fu esplicito nelle pagine del consuntivo quella di Mezio era nulla più che una posizione di retrovia un punto di vista che doveva considerarsi reazionario ma vi furono anche casi in cui gli attacchi alla mostra di Longhi arrivavano da intellettuali di sinistra come il pezzo accuminato e feroce che Elio Vittorini consegnò alla stampa il 17 luglio del 1951 pareva scrive Vittorini certi pomeriggi che fossero tornati i tempi in cui Ugo Ietti scaraventava le sue mostre di ritrattisti o paesaggisti del settecento attraverso le gambe malferme dell'opinione pubblica per impedire che la fama di un Amedeo Modigliani o di un Picasso o di un Matisse di un Braque di un Leger allignasse anche in Italia l'artista non sarebbe che un tardo epigono di una linea tutta accademica della pittura che affonda le proprie radici nel secolo precedente nelle scuole di Raffaele Michelangelo e Tiziano il realismo del Caravaggio prosegue Vittorini nasce per reazione all'accademismo delle varie scuole italiane che si erano formate in stretto apparentamento dietro a Raffaello da un lato dietro a Michelangelo da un altro dietro a Tiziano da un terzo ma non è un realismo che rimetta tutto in questione Caravaggio non osa rinunciare alla bravura artigiana che quell'accademismo gli ha dato modo di conquistarsi egli non respinge di quell'accademismo che l'aspirazione idealistica ne conserva invece le abilità le malizie le mille furberie tecniche ed è una mano inguantata di ferraglia accademica che gli caccia nel vivo della realtà naturale non una mano inerme e ingenua parole pesanti quella di Vittorini fu una stroncatura che dovette essere bruciante per Longhi che si rammaricava che la mostra e soprattutto il pittore fossero stati oggetto di una vera e propria campagna di propaganda e contro propaganda ne va dimenticato che proprio a ridosso della mostra uscirono due libri che segnavano il ritorno o in un caso forse l'arrivo nel caso di Berenson a Caravaggio di due vecchie conoscenze di Longhi del Caravaggio delle sue incongruenze della sua fama era infatti il libro che Bernard Berenson pubblicò alla fine del 1950 e nel quale l'anziano studioso proponeva del Merisi una lettura tutta in chiave arcaica legato alla pittura veneziana di Giorgione di poco successivo è invece il Caravaggio di Lionello Venturi uscito per la di Agostini il libro di Berenson c'è scritto e l'altra è la copertina del libro di Venturi coinvolto nella commissione che si sarebbe dovuto occupare della scelta delle opere per la mostra milanese Lionello Venturi non era certo in buoni rapporti con Longhi a quella data e basterà ricordare che le proposte per una critica d'arte delle quali proprio Venturi è l'implicito bersaglio polemico erano state praticamente appena pubblicate non mi soffermerò qui sulle differenze di questi due libri rispetto all'interpretazione longhiana valga su tutti il rimando all'acuta lunga recensione firmata da Sir Dennis Mound sulle pagine del Barlington Magazine del 1953 ancora nel 1953 si sarebbe avvertita l'eco di quelle vicende quando infatti Longhi si trovò coinvolto per la seconda volta e non sarebbe stata l'ultima nell'organizzazione di un'esposizione a Palazzo Reale a Milano i pittori della realtà in Lombardia si richiamava all'esposizione che Charles Sterling aveva curato all'Orangeria a Parigi nel 1935 esplicitando il richiamo a quella mostra di quasi 20 anni prima Longhi è ben conscio della necessità di fissare alcune coordinate per meglio intendere come utilizzare quell'emma scrive Longhi io vedo bene che a ricorrere oggi sempre più frequente nelle discussioni sull'arte di questa parola pesante e decisiva molti visi anche di amici fidatissimi e non soltanto di dialisti coturnati si sbiancano come trafitti da un dolore troppo acuto e sono magari di quegli stessi che senza avvertire la connessa esigenza dialettica usano a ogni passo e forse con troppo diletto la parola maniera o manierismo come se il fatto storico che essa vuole esprimere potesse esistere fuori del contrasto fondamentale con un opposto che sarebbe difficile chiamare altrimenti che realismo e nel nostro campo più specifico pittura della realtà tornare alla pittura del reale ha per lunghi il valore di una messa in discussione di quell'idealismo formalistico che utilizzava le etichette degli stili per circoscrivere artisti e opere e su questa via lasciava da parte proprio quella fiducia e confidenza col vero che era invece cifra peculiare di quegli artisti lombardi riuniti in mostra e di fatto come i suoi studi avevano dimostrato anche di Caravaggio negli anni successivi Caravaggio sarebbe rimasto sempre al centro degli interessi dello studioso sedici anni separano la prima edizione della monografia sul pittore edita da Martello 1952 dalla versione ampliata e corretta pubblicata nella collana la pittura italiana degli editori riuniti di cui lo stesso Longhi era stato animatore la stessa collana in cui per intendersi nel 1961 era stato pubblicato anche il bellissimo libro di Giuliano Briganti La maniera italiana questo accostamento è solo evocativo per dare un'idea del tempo trascorso dai suoi primi studi all'aprisi del novecento sino praticamente all'anno della morte al 1970 Longhi non smise mai di riflettere sul suo pittore e attraverso la messa alla prova del suo stesso impianto interpretativo con il contatto diretto con le opere che lo studioso è arrivato a proporre una lettura di Caravaggio che di fatto avrebbe fissato l'artista nel canone non solo seicentesco della pittura occidentale grazie 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 grazie